ciao a tutti bentrati sul canale e come promesso riprendiamo la sfida degli iscritti oggi avremo quelle che non si sono ancora qualificate nell'altro video ad arcadio contro ivette con un miliardario 20 per sofia storiano venicoletta martinelli con un 20 per è un miliardario e eugenia semeraro e barbara cremona con un miliardario e un 20 per e queste sono le ultime tre sfide che andranno a scontrarsi con luisa de paolo lauretta lauretta e anna morrea partiamo con la prima sfida ad arcadio contro ivette ad arcadio a un miliardario serie 15 numero 43 numeri vincenti per ad arcadio 38 32 intanto continuate a iscrivervi 14 44 e 12 bello 12 perché il prossimo anno cambierà il torneo di nuovo 17 primo numero che non c'è 15 non c'è 28 abbiamo il 38 forza da 39 niente 37 niente 30 non c'è 43 abbiamo il 44 27 non c'è e 33 abbiamo 32 25 non ce l'abbiamo 13 non c'è il 23 abbiamo 32 girato ultimi tre numeri 18 niente 35 c'è il 38 ultimo il 20 niente quindi per ad arcadio 0 euro vediamo come risponde ivette con il 20 per che numero 68 serie 68 numero 14 numeri vincenti per ivette 34 39 39 17 30 e bonus 42 primo numero 15 niente 12 era nell'altro biglietto 23 non c'è 22 non c'è 38 38 c'è il 39 seconda fila 28 niente 46 non c'è 11 niente 35 abbiamo il 34 e 37 c'è sempre il 39 terza fila 29 29 abbiamo il 39 45 niente 45 niente 40 niente penultimo il 41 niente e l'ultimo il 14 niente quindi pareggio passiamo all'altra sfida eugenia semeraro con il 15 come serie 42 numero del biglietto numeri vincenti per eugenia campienza in carica ricordiamolo 20 36 33 45 e 18 primo numero 22 niente primo numero 22 niente 42 no 39 no 13 no e 41 niente la prima fila è conclusa seconda fila 27 34 c'è il 33 37 c'è il 36 16 c'è il 18 l'11 ma non c'è 43 niente 43 niente 38 niente 38 niente 31 ancora niente 40 niente l'ultimo numero il 23 e non c'è quindi anche oggi in semeraro 0 euro e barbara cremona al 20 per serie 68 numero 13 numeri vincenti per barbara cremona 30 23 21 29 e per 10 il 45 39 39 non c'è 12 c'è il 21 girato 27 non c'è 22 aia 44 c'è il 45 32 non c'è 31 niente 41 non c'è 38 38 niente 48 niente 14 non c'è 17 neanche 25 natale non c'è tra poco il 13 non c'è su barbara 26 non c'è l'ultimo il 40 anche zero barbara cremona l'ultima sfida sofia stoianov con il suo 20 per serie 68 numero 12 numeri vincenti 33 28 11 e 21 bonus 43 primo numero il 12 liscio 24 niente 13 niente credici sofia 25 natale non c'è 27 non c'è 29 c'è 28 46 non c'è 38 avevamo il 28 39 non c'è 39 non c'è 17 non c'è 44 non c'è 35 c'è 33 45 c'è 43 41 niente ultimo numero per sofia il 43 sofia il bonus per 10 andiamo a grattare il codice prima sotto qua dovete sfondare il tasto mi piace perché se no tank allora vediamo un po sotto il 43 che si trasforma per 10 sono 20 per 10 200 euro sofia 200 euro e qua meriterebbe la finale diretta allora ve la butto lì così con 200 euro secondo voi sofia merita la finale diretta ditelo scrivetelo votate si finale hashtag finale o no finale anzi lo mettete voi come volete però ditemi se merita la finale o no sofia quindi ora lo so per nicoletta martinelli è un po difficile ribaltare la situazione a meno che non ci trova nel suo biglietto serie 15 numero 41 a meno che non ci trova il ferro e pareggia la moneta o tutti i premi ahimè nicoletta ci dovrebbe salutare vai nicoletta numeri vincenti 11 22 13 25 e 34 primo numero ammette abbiamo messo pause abbiamo bevuto un po' d'acqua perché è una vincita così allora 44 non c'è il 14 non c'è c'è il 13 dai nicoletta provaci 24 liscio 36 niente 31 niente 39 non c'è diminuiscono i numeri e sofia spera 28 niente perché con una vincita del genere 38 non c'è 12 non c'è liscio 30 non c'è ultima fila il 15 non ce l'abbiamo o meglio nicoletta non ce l'ha il 29 non c'è il 18 non c'è penultimo numero 32 e l'ultimo il 42 niente quindi nicoletta martinelli eliminata allora ricordatevi sono già passate luisa de paolo lauretta lauretta e anna morrea se deve andare avanti nelle sfide normali secondo voi sofia incontrerebbe luisa de pao come prima sfida se no votate se volete se merita con 200 euro la finale diretta continuate a iscrivervi che serve anche per il prossimo torneo che voglio farlo con più iscritti ciao a tutti ricordiamo questa bella vincita di sofia che ha forse la vincita più alta dei due tornei messi insieme ciao a tutti un bacio a tutti e un prossimo video